Non amore di Erika. Un posto per noi, un appartamento dove finire sempre per fare l'amore, sul divano, in poltrona o in macchina. La mente sfuma, obbedisco come un burattino, quell'appartamento lasciato dalla sorella per i suoi comodi. Sento ancora rimbombare le parole mentre passo tra quelle mura. Non occorre fare domande, una sberla mi lascia inebetita, senza fiato, né forza. In quell'appartamento sono morta. Il tempo con lui è stato un ostaggio di sentimenti, mi sono lasciata tormentare. Ho vissuto come un funambolo, sempre tesa. La bestia digrignava i denti, il suo modo di fare mi spingeva a dare ascolto alle sue parole. Sapeva chiedere scusa a ogni gesto sbagliato. A volte si perdeva per giorni. Messaggi inaspettati e diretti cambiavano il mio umore. Ci vediamo questa sera? Con un abbraccio sapeva cosa ottenere. Furbo. Innamorarsi di un ragazzo che non sapeva di niente.